Sono sicuramente la volontà. Emigo nel perimetro distanza a 200 kg. Sono dappertutto! Attenzione a sinistra! Mio generale, accettate il consiglio del vostro compatriota Ken War Khan Abbiamo perso molti soldati nella nostra lotta contro il Drago d'Oriente Ma come risultato il nostro nemico ha disperso le sue difese Lasciando privi di sorveglianza importanti bersagli economici e civili Questi dovrebbero essere i prossimi bersagli della lotta contro l'oppressione globale Solleviamo di nuovo la testa, fratello Voi ci condurrete alla vittoria finale Il momento è giù La nostra causa è giù I nostri soldati sono tutti Sfuggiremo i nostri nemici come polvere in discesa dal cielo Autobomba! Avversione! Spuggiranno davanti alla nostra colpa I loro eserciti finiranno in rovina Il guerriero è caduto Non si risponde in arrivo, non temiamo nulla, andiamo a combattere, a terra, non temiamo nulla, piacere, niente meno di più, noi prendiamo ciò che vogliamo, lo faremo a me, ora lo ricurremo in grandezza, che cosa posso ricavare, noi prendiamo ciò che vogliamo, prendiamo ciò che vogliamo. Che c'è? Ora lo ricurremo in grandezza, non temo nulla, vediamo cosa possiamo fare, potremo riuscire, ottima idea, questo servirà di lezione in fine, ne ho uccisi tre, dolce il sapore di capire, io ne ho uccisi quattro, squadra terroristi, raggiungere il rifugio montano e prepararsi al contrattacco, i cinesi stanno perlustrando le colline in cerca della base Ugrini. Generale, i cinesi sono appostati a difesa della loro centrale idroelettrica, distruggendo la diga libereremo gli abitanti dei villaggi dalla tirannia cinese. I cinesi si sono impadroniti di questo pacifico villaggio e stanno traviando con la loro vile propaganda questi semplici pescatori. Pare che nella zona operi un trafficante d'armi in incognito, se riusciremo a trovarlo potremo acquistare qualcosa di utile per la causa. Generale, l'obiettivo è chiaro, distruggete la diga e fate pagare ai cinesi la loro arroganza. Invierò un messaggio chiaro. Armo la bomba ad alto potenziale, una consegna d'armi, armo la bomba rotta e carico, armo la bomba ad alto potenziale, esplosivi ad alto potenziale e caricati, bombe biologiche caricate, esplosivi ad alto potenziale e caricati. Se è quello che volete, obbedirò. Che cosa volete? Andiamo! Au! Ok, lavorerò per voi! Ho molte armi in vendita. Forse vi interessa qualche razzo casalingo per i vostri cari armati. Che c'è? Aspettate un attimo solo. Ho una consegna da fare. Gli chinesi sono molto abitati. Facciamo loro una sorpresa. Silenzio radio, stupidi! Combatteremo quando sarà il momento. Ho concluso con le distanze. Non temiamo nulla. Carro Scorpion. La nostra volontà è forte. Razzo Scorpion installa il consiglio generale. Spiacente, mi metterò al lavoro. Mi metterò al lavoro. E camuffarò davvero. Ottimo travestimento. Ho concluso con le distanze. Spendierò un messaggio chiaro. Mi metterò al lavoro. Mi metterò al lavoro. Sì. Ok. Ecco che va. Non fatemi del male. Obbedirò. Non si risponde di danni ai ragazzi. Mi metterò al lavoro. Mi metterò al lavoro. Che c'è? Aspettate un attimo solo. Andiamo. Mi muovo. A terra. Ditemi dove andare. Andiamo. Sì, ho capito. Ditemi dove andare. Forza cinesi, l'avvicinamento. Aspettate un attimo solo. A terra. Abbiamo trovato un passaggio segreto poco sordine. Andiamo. Mi muovo. Scorpione pronto a fungere. Sì, ho capito. Aspettate un attimo solo. Ditemi dove andare. Il guerriero è caduto. Noi prendiamo ciò che vogliamo. Andiamo a combattere. Sì, ho capito. Scorpione pronto a fungere. A terra. Mi muovo. Sì, ho capito. Lo faremo a terra. Aspettate un attimo. Non temiamo nulla. Sì, ho capito. Mi muovo. A terra. Sì, ho capito. Scorpione pronto a fungere. Potremmo riciclarvi. Che cosa posso ricavarvi? Ora lo ridurremo in brandenza. Il guerriero è caduto. Farò del mio meglio. Noi prendiamo ciò che vogliamo. Il nostro clan è potente. Noi prendiamo ciò che vogliamo. La nostra volontà è farla. Noi prendiamo ciò che vogliamo. Che c'è? Andiamo. Pronto all'impegno. Vizio postale dell'ELG. Acco in arrivo. Arrivo subito. Vizio postale dell'ELG. Vizio postale dell'ELG. Pronto all'impegno. Piace. Vienesco in arrivo. Che cosa volete? Pronto all'impegno. Non ce n'abbiamo nulla. Mi muovo. Lo faremo a peggio. Pronto all'impegno. Che cosa volete? Andiamo. Aspettate un attimo su. Ditemi dove andare. Noi prendiamo ciò che vogliamo. Mi muovo. Andiamo a combattere. Che cosa volete? Ditemi dove andare. Che cosa volete? Aspettate un attimo su. Lo faremo a peggio. Dobbiamo prendere un imboscato. Ora lo ridurremo in brandello. Il villaggio è divenne. Andiamo. Stanno unendo alla nostra causa. Morta e girarmi. Vediamo cosa possiamo fare. Il veniero è caduto. Pronto a combattere. Non ci faremo opprimere. Che c'è? A terra. Ditemi dove andare. Andiamo. Potremmo riciclare. Lo faremo a peggio. Si spara nel bambino. Il veniero è caduto. Che cosa posso ricavare? Ditemi dove andate. Aspettate un attimo solo. Che cosa posso ricavare? Il nostro coraggio sarà ad esempio per tutti. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Che c'è? Vediamo il nostro coraggio. Il veniero è caduto. Non ci faremo. Il veniero è caduto. Ora non ricorremo in grande. Lo faremo. Il veniero è caduto. Il veniero è caduto. Il veniero è caduto. Il veniero è caduto. Che cosa mori. Ottima idea. Lo faremo. Che cosa posso ricavare? Andiamo. Ora non ricorremo in grande. Ottima idea. Che cosa posso ricavare? Potremmo riciclare. Che cosa posso ricavare? Che staremo a me. Ottima idea. Vediamo cosa possiamo. Di nuovo. Potremmo riciclare. Potremmo riciclare. Potremmo riciclare. Potremmo riciclare. È il giorno del giudizio per i nostri nemici. Ci sorprenderemo come un'onda di mare. E li affogheremo nella loro spettabilità. Ah, questo termina a direzione infinita. Grazie a tutti.